Ciao a tutti ragazzi qua Dexta, oggi sono qui con questo nuovo video su GT5 Online Oggi ragazzi andremo a fare il colpo finale, il primo colpo ragazzi, dico finale perché insomma abbiamo completato le tre missioni preliminari Mi ha chiamato Lester e mi ha detto che insomma ci sono delle novità, quindi credo sia ragazzi insomma effettivamente il primo colpo ragazzi, la fine del primo colpo Allora vediamo un po', ok stiamo entrando, allora riassumendo insomma quello che c'è stato detto ragazzi Praticamente con i dati che abbiamo rubato dobbiamo impedire una sorta di attacco, una cosa del genere Comunque adesso dovremo agire, lui si è messo di nuovo il sacchettino, io non so per quale motivo sinceramente Comunque ok è andata ragazzi, finalmente è finito, questi discorsi di questo Avon sono veramente lunghissimi E alla fine in una frase dice soltanto qualcosa di utile che realmente ti serve per fare la missione Comunque sì allora qui abbiamo il tutto, direi di sì, allora accediamo allo schermo Allora ci siamo, praticamente ho dovuto invitare qualcuno ragazzi perché altrimenti non andava Allora abbiamo praticamente 650.000 dollari di guadagno e poi il ruolo e la percentuale Va bene, un po' come le rapine proprio di Lester di tanto tempo fa Quindi è abbastanza ragazzi normale, qui abbiamo il piano Ci dobbiamo infiltrare in una sede e poi farci strada tra i nemici, insomma fare varie cose ragazzi Allora qui abbiamo praticamente tutta la situazione Io direi che l'85% non è male, dato che, come dire, io ho pure pagato se non sbaglio 65.000 dollari di inizio rapina Non lo so, comunque al compagno vanno 97.000, va bene ci sta, dai come prima rapina Vediamo un po' come va, poi in caso ragazzi penso comunque di rifarle nel corso del tempo Il ruolo è praticamente uguale, sì sì, non ci sono ruoli particolari Quindi possiamo avviare Prima rapina, stiamo per partire Ok vai, allora io qui ragazzi ho un bel guadagno Da, insomma, poter prendere Allora qui dovrei avere la mia T20 Purtroppo non mi faceva selezionare altre auto Quindi Ok prendiamo la T20 Ma perché non me la fa prendere? Fammi entrare nell'auto Partiamo, il compagno è salito in auto con me Allora Niente, qui parlano di varie cose ragazzi Come al solito fanno tutto in discorso Ma poi le cose utili sono pochissime di quelle che dicono Allora in breve dobbiamo raggiungere questa base ragazzi E fermare delle persone che insomma vogliono creare problemi Alla fine E questo è quello che si deve fare Comunque ci sarà alla fine un bel guadagno per questa prima rapina Poi Vedremo anche le altre come saranno pagate E si possono fare da due a quattro giocatori E ovviamente con più giocatori poi devi dividere più parti del guadagno Quindi forse è meglio farli in due Però sicuramente sarà abbastanza complicato Il tutto da portare avanti Non lo so Comunque siamo quasi arrivati Manca poco Dovremmo fermarci sotto un'antenna Sotto una cosa del genere E vedere la situazione ragazzi Comunque particolari queste rapine Allora siamo quasi arrivati Qui intanto c'è la prigione Le antenne sono tutte qui Lì insomma parlava di antenna satellite Quindi dovremmo esatto ragazzi Essere quasi arrivati Allora ci stavano aspettando Fateli fuori prima di entrare Va bene Allora io direi di scendere qui Prendere ragazzi le armi E devastare tutti per bene Vai Prendiamo qui il lanciamissili Vai andiamo Boom Facciamo saltare tutti in aria Tutti in aria Vai Deve esplodere tutto Io mi prendo un giubbottino Che già mi hanno tolto un bel po' di vita E andiamo vai Abbiamo soltanto una vita ragazzi Cioè se uno muore due volte E' finita Allora Andiamo da questa parte Qui c'è l'entrata Si Si mi sa di si ragazzi Perfetto abbiamo raggiunto l'entrata Siamo entrati Dalla porta Cioè sotto un'antenna C'è una base segreta Vabbè Cose inspiegabili Ok attenzione Attenzione Mamma mia Mi traghiamo lì tutti Allora qui ovviamente ragazzi Non si fa nulla in stealth Si va di forza Si va a mitragliare e basta Quindi Stiamo belli calmi Mitragliamo tutti per bene E appena non c'è più nessuno Si va avanti Perché poi se muoio Comunque perdiamo Probabilmente dei soldi per Cioè dei soldi finali Come ricompensa Oh Mamma mia Ma da dove? Da dove? Da dove? Aspetta 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 Fammi stare qua coperto Ragazzi Impressionante Ok Giubbottino ho preso E qui però mi servono gli snack Prendiamo qualche snack ragazzi Vai ho ricaricato un po' la vita Lì ce n'è uno Vai quello è morto Allora direi che possiamo andare Perfetto Leggermente avanti Leggermente avanti Piano piano Vai qui Riparati Lì c'è qualcuno Mitraiamolo E lì? C'è un altro C'è un altro Forse no Forse no ragazzi Oh Si 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 Vabbè ci sarà un sacco di gente Che uscirà poi Tipo all'improvviso Piano qua Ok dobbiamo raggiungere Il piano più basso Va bene Va bene Ok quello è stato mitragliato Ragazzi Qui purtroppo I giubbottini Finiscono subito Una cosa impressionante Ok vai andiamo avanti Con calma Con calma Con calma Riparati Vai 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 Più coperto Più coperto Mitraiamo tutti Mitraia Mitraia Ragazzi qui è un problema Ok questi sono andati Anche quello è morto Però mi servirebbe un po' di Un po' di ricarica ancora Cioè Devo ricaricare in continuazione Vai Ok qui mi sa che c'è qualcuno Sicuramente ragazzi ci sarà qualcuno Esatto Vai spariamo così Non so se ho preso qualcuno Ma credo Vai copriti Vai vai Mitraiamo tutti Mitraiamo tutti Comunque Facendo questa missione In questo modo Si supera senza neanche Troppi problemi Perché vengono loro da te Quindi Ragazzi è tutto Oh Vai copriti Copriti Lì c'è qualcuno Dietro la porta Sicuro Sicuro ragazzi Andiamo di rpg Vai Boom Ok è morto È morto Evitiamo Uscita all'improvviso E cose del genere Allora qui siamo arrivati Dobbiamo scendere sotto Ok Oh Mamma mia Stiamo andando Stiamo andando Con calma Tanto tempo non ce n'è Ok Qui sotto Non c'è nient'altro Vai Quello è morto Qui ce ne sono altri Vai 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 Mitraiamo lì Mitraiamo lì Ok non ce ne sono più ragazzi Eeeh Cos'è Il compagno è entrato lì dentro Questi qui forse sono innocenti Non lo so Vabbè Ragazzi Devo stare sempre coperto Mamma mia Questi qua escono all'improvviso Vai esci Ok perfetto Direi di lanciargli Una granata Ecco lanciamo granate Così ragazzi Quello morirà Vediamo Niente non è morto Ok ora Ora quasi però Non ancora del tutto C'è impressionante Hanno un sacco di vita Muori Ok finalmente Ok li dobbiamo eliminare tutti Eliminemoli tutti Qui però sono Sono sempre ben nascosti Ma quello è morto Lì c'è qualche altro Lì dietro E c'è un sacco di gente C'è un sacco di gente Da dover eliminare Vediamo se Ok Se mi muovo Riesco a prendergli un po' meglio Qui c'è qualcuno Dove sei? Sei coperto? Ragazzi qualcuno forse si è mosso Vediamo lì Ma qui non c'è nessuno Ma dove sono? Dietro il pilastro? No Forse sono in un altro livello Quelli Non so ragazzi C'è gente nel radar Ma che realmente non c'è O qualcuno si è buggato O non lo so Allora questo qui lo uccidiamo Vai perfetto Ora Rimane l'ultimo ad eliminare Ma dov'è che si trova questo? Ragazzi io non Non ho idea Ora spariamo un bel colpo Di lanciarazzi Vediamo se Magari si è buggato Da qualche parte Spariamo lì Niente Spariamo sopra Allora Ci sarà qualcuno Al piano superiore Infatti il compagno È già andato Ci sarà qualcuno lì Che non è morto Ragazzi non ho idea Siamo saliti su Però non Non c'è nessuno Qui Non lo so Non Andiamo avanti Vediamo se c'è Qualcos'altro da fare Magari c'è una zona qui Superiore Ma è tutto chiuso È una stanza unica Questa C'è qualcuno Che forse si è buggato Qui Io Non lo so Ora facciamo una bella cosa Ragazzi Facciamo un'esplosione Nucleare Vediamo un po' Esplosione ragazzi Nucleare Facciamo saltare Tutti in aria Vai Altre bombe lì Altre bombe in fondo Facciamo saltare Tutti in aria Vai compagno Piazza pure le tue Vabbè Faccio esplodere tutto Niente Non muore Vabbè Saliamo sopra Mamma mia Ma è assurdo Ci risiamo Praticamente ho dovuto Riavviare Perché Quello lì Non si trovava Siamo andati Ovunque Ho pure provato Ad uscire ragazzi Dalla base operativa Qui Insomma Dei militari Eccetera Ma Quello lì Non si trovava Ad un certo punto Sembrava di giocare Nascondino E niente Si sarà buggato Non ho idea Comunque ho riavviato Ragazzi Ora spero che Non succeda La stessa cosa Ma credo comunque di no Perché se capita due volte Sarebbe assurdo Allora Vediamo Di stare calmi Io Mi prendo qualche giubbottino Vai Standard Ok E vediamo un po' ragazzi Se c'è qualcuno Sì Lì c'è qualcuno Spariamo Qualche colpo di lancia granate Qui però Mi serve Di nuovo Il giubbottino Antiproiettile Ok Vai Andiamo avanti Andiamo avanti Con calma Vediamo se qualcuno esce No Oh Quello è riuscito Mi metto da questa parte Vediamo se Oh Vai prendi quello Prendi quello Vai che muore Vai che muore Ok Quello è morto Vai che rimane l'ultimo Ok È andato ragazzi Perfetto Ok Ne stanno arrivando altri Va bene Dobbiamo raggiungere La war room Forse È dove c'è Non so ragazzi Il cannone Quello lì Devastante Ok ci siamo Allora Che dobbiamo fare Ok Sediamoci qui Vediamo un po' Usiamo La torretta Ragazzi Non lo so Non so Ok Dobbiamo mitragliare Forse Un po' Tutti Vai 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 Mitraglia Mitraglia Ok Qualcuno è morto Vediamo Qui c'è altra gente Vai 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 Devastiamoli tutti C'è l'elicottero Devastato Dovremmo essere arrivati Quasi alla fine Guardi Distruggiamo l'elicottero Ragazzi Penso di sì Distruggiamo Quell'altro Niente Che è successo Ce l'abbiamo fatta Forse sì ragazzi Ce l'abbiamo fatta o no Mi sa di sì Praticamente ci hanno detto Che c'è Un qualcuno Che dirige Determinate operazioni Dei russi Che probabilmente Dovremmo eliminare In qualche modo Grazie mille Ci sentiamo Cioè In due abbiamo eliminato Un'intera base Niente ragazzi Comunque Bella missione Bella missione Nessuno è morto Diciamo c'è stato Quel riavvio Che ho dovuto fare Però Praticamente A parte quel bug Piccolo inconveniente Alla fine È andato tutto bene E qui abbiamo preso 552 Mila dollari Di guadagno Abbiamo perso 9 minuti e 55 Uccidi 78 nemici 89 invece Ne uccisi Nessun morto Ragazzi Bella missione Questa era la prima rapina Penso che appunto Ce ne siano Adesso altre Bonus Prima volta 602 mila Vabbè mi hanno regalato Praticamente 50 mila dollari Ma comunque Devo dire che Questa rapina Qui Le altre Non lo so Perché ovviamente Li giocheremo E le scopriremo Eccetera Però Questa qui ragazzi È stata abbastanza Semplice Tutte le varie missioni Si fanno Piuttosto Velocemente Penso siano Molto più veloci Rispetto Le rapine Di Lester E oltretutto Insomma Le puoi giocare Pure in due giocatori Quindi alla fine Guadagni pure di più Sono ritornato Alla base operativa Ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto Abbiamo praticamente Completato La prima rapina Il primo atto Con tutte le varie Missioni preliminari E poi ovviamente Il colpo finale Il guadagno È stato Abbastanza buono Cioè secondo me Veramente Veramente ottimo E insomma Nei prossimi episodi Poi andremo a vedere La seconda rapina Con tutte le sue missioni E poi anche la terza Qui ad extra Lasciate un bel mi piace E ci vediamo Al prossimo video Ciao